la squadra femminile di fioretto italiana ha vinto la medaglia d'argento a squadre a parigi 2024 medaglia d'argento per il team di fioretto femminile italiano alle olimpiadi di parigi 2024 alle olimpiadi di parigi 2024 il team di fioretto femminile italiano ha conquistato una straordinaria medaglia d'argento in una finale emozionante hanno dovuto cedere il passo alla squadra giapponese che ha avuto successo nell'ultima mance tuttavia le atlete italiane hanno dimostrato con la loro prestazione e il loro spirito combattivo di appartenere tra le migliori al mondo la squadra che ha partecipato a parigi era composta da rinomate schermitrici tra cui la talentuosa alice bellandi la partecipazione ai giochi olimpici è un obiettivo che molte atlete perseguono e i successi della squadra femminile di fioretto italiana sono tra i momenti culminanti della storia sportiva del paese le atlete tra cui bellandi e de gennaro hanno conquistato il loro posto nel mondo della scherma internazionale e certamente continueranno a lottare per le medaglie in futuro questa medaglia d'argento non è solo una ricompensa per un allenamento impegnato ma anche un segno che la scherma femminile sta continuando a crescere con il loro talento e la loro determinazione le atlete contribuiranno a ispirare una nuova generazione di schermitrici e a promuovere lo sviluppo positivo dello sport